Una pioggia di milioni per riqualificare la città. L'amministrazione comunale di Fano centra l'obiettivo e ottiene il finanziamento dei due progetti PINQA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Con entrambi il Comune aveva partecipato, insieme ad altri 175, al bando indetto nel marzo scorso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Ora però è ufficiale, dal Governo arriverà un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro. I due progetti riguardano la riqualificazione di San Lazzaro Vallato con 15 milioni e di Metauriglia con altri 10. Sindaco, hai detto una grande soddisfazione per la città? Beh, è una grande occasione. Noi abbiamo partecipato a questi due bandi, è uscita la graduatoria dove entrambi i progetti sono inseriti. E ancora deve uscire il decreto attuativo che prevederà anche le tempistiche dei finanziamenti. Ovviamente non verranno tutti finanziati immediatamente, ma la cosa che ci rincuora, che comunque in transe diverse, saranno rimpinguate, ci saranno prime 2 miliardi e 300 mila euro e poi verranno aggiunti un altro miliardo per finanziarli tutti quanti. Nello specifico, tra i lavori previsti nel primo progetto, rientrano delle nuove unità abitative di housing sociale, la riqualificazione del villaggio Ciano e il restauro dell'ex chisetta, la sistemazione della piazza del Vallato e della casa della comunità nelle vicinanze della chiesa di San Paolo Apostolo, ma anche la realizzazione nell'area ex mattatoio di servizi per lo sport e interventi per ridurre il rischio di allagamenti in via Pisacane. A Metauriglia, invece, il recupero e l'ampliamento dell'ex magazzino Orto Frutticolo per la realizzazione dell'ecomuseo, appartamenti dedicati a donne vittime di violenza o papà in difficoltà, la riqualificazione della palestra comunale di Torrette con la creazione di un bici pit stop e il terzo stralcio della ciclovia adriatica. Siamo riusciti a fare un lavoro di squadra, di coinvolgimento, di partecipazione anche della cittadinanza e sappiamo che magari non i tempi, brevissimi, medi, però che il risultato è arrivato. Sarà possibile farli entro suo mandato? Beh, questi sono progetti complessi che richiedono tempo. Sicuramente alcuni partiranno, alcuni saranno realizzati, altri li lascerò a chi verrà dopo di me e questa è una bella dote per la città, anche per chi verrà.